Allora scende il faccio di tutto il partenza, e Pavlos, Pavlos davanti a Ligabó, e allora Pallos, Ligabó, Ligabó e poi Fusiumeno, Pavlos, Ligabó, Fusiumeno le prime tre posizioni per il punto della categoria degli allievi, e allora è solo stato di... Bene, un passo di Ligabó, Ligabó, con Asurano lontano, e rimane dentro, Ligabó con Fusiumeno!